E' un dono i uriani, sempre la campagazione, ci si seguono a formarsi. 16, 17, 17, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 23! dicembe di una rata in siena preasca e come tue male beata preasca ma se con te lo colo come sulle sangue scato per i primi e menti da gamba si fa 7 fatta in siena po' te si ritorasciato di per i primi e di matti ma se con te lo colo come sulle sangue scato per i primi e di matti si va 7 fatta in siena se ritorasciato di per i primi e di nato Sì, sì, sì! Grazie a tutti Grazie a tutti